Successo per la prima giornata del microchip organizzata dall'Associazione di Volontariato Diamoci una Zampa con Carmine Guaglia in collaborazione con i medici veterinari dell'Aso, il dottore Giannuzzi e la dottoressa Schettini e al comune di Capaccio Pestum. Oltre 60 cani registrati all'anagrafe canina, l'iniziativa è stata apprezzata dalla cittadinanza ed è un primo passo fondamentale verso la sensibilizzazione del fenomeno randagismo. Carmine Guaglia ringrazia tutti gli sponsor, il presidente del Consiglio Comunale Carmelo Pagano, l'assessore allo sporto Francesco Sicche, il dirigente responsabile ASLA Gianfranco Masiello e l'associazione Altavilla dalla Zampa e Don Donato Orlando, parroco della parrocchia di San Vito di Capaccio Scalo, protettore dei cani che ha benedetto tutti i cani presenti. Ma un plauso lo rivolge a tutti noi, noi volontari dell'associazione Diamoci una Zampa che giorno dopo giorno, con spirito di sacrificio, spinto d'amore incondizionato, veste i quattro zampe e per il nostro territorio cerchiamo di dare un aiuto concreto alla risoluzione del randagismo.